E' stato un grande successo anche quest'anno, queste le parole dell'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Agropoli Rosa Lampasona, un'esperienza che ha portato i ragazzi dell'Istituto Gino Rossivairo di Agropoli per il secondo anno consecutivo al Teatro San Carlo di Napoli, un'offerta formativa in più che la scuola Gino Rossivairo offre a tutti gli studenti che decidono di iscriversi all'indirizzo musicale. E' entusiasta, rispetto all'anno scorso notevoli miglioramenti, si vede che è la seconda volta quindi probabilmente anche più preparati, i genitori meravigliati, estasiati, contentissimi di questa esperienza culturale che hanno potuto vivere non solo i figli ma diciamoci anche noi, io vengo non solo come assessore, lo dico, contentissima come genitore di mio figlio che ha partecipato per la seconda volta a questo interscambio col San Carlo, quindi ringraziamo sicuramente chi ha proposto questo progetto, quindi il San Carlo e soprattutto gli insegnanti della scuola con il dirigente Bonflisco che hanno approvato questo progetto. Quest'anno è stata la Durandò, rispetto all'anno scorso abbiamo visto l'Aida, forse perché la seconda esperienza sicuramente ho visto i ragazzi anche più interessati, più partecipi, più attenti, veramente un'esperienza che penso rimarrà nei loro cuori nei prossimi anni a venire. È un'emozione molto forte perché è un teatro molto importante, quindi è bellissimo anche perché è molto famoso come teatro e quindi è molto bello essere venuta qua. Sono molto eccitata perché è bellissimo, puoi stare sul palco così, c'è in Bastrano, però sarà una bella emozione. Io quando sono salita mi sentivo importante, per me è stato troppo bello, non può essere vero, non ci credo ancora, pensavo fosse un sogno. È stata una cosa fantastica, hai fatto altre trenta volte, non lo so. È un'esperienza che di sicuro non dimenticheremo tanto facilmente perché non tutti hanno la possibilità di entrare in questo meraviglioso teatro. Appunto come ha detto la nostra compagna è stata un'esperienza unica e spero che anche altri la facciano. È bello, molto interessante e particolare. È stata un'emozione grandissima, io il San Carlo l'avevo visto solo in tv ma nella realtà è veramente incredibile.